I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 32enne pregiudicato catanese per il reato di evasione. Nella circostanza i militari dell'arma, impegnati nell'ambito di un servizio di contrasto all'illegalità diffusa nel quartiere Librino, nel transitare nel viale Bumacaro, si sono insospettiti per le manovre di un'auto in transito con a bordo tre uomini, il cui conducente, alla vista della gazzella, ha effettuato una brusca manovra di inversione del senso di marcia con l'evidente finalità di voler eludere un eventuale controllo dei militari. Tuttavia la prontezza di riflessi dei carabinieri gli ha consentito di raggiungere l'autovettura e dopo aver intimato l'alta al conducente hanno identificato gli occupanti del veicolo tra i quali il pregiudicato 32enne che da accertamenti effettuati nell'immediatezza è risultato essere evaso da una comunità di Cuneo, dove era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, commessi lo scorso 4 gennaio a Catania e dopo che aveva già collezionato diverse evasioni dal predetto luogo di detenzione. I carabinieri lo hanno pertanto sottoposto agli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre a Catania, su disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto.